giulio coniglio e le farfalle ecco priscilla e filomena sono farfalle molto birbone appena sveglie saltano nel tè dell'oca caterina caterina e sconvolta poi tirano i baffi al topo tommaso che maleducate tommaso è seccato ora fanno il sollettico al povero giulio coniglio che dorme così bene giulio è molto arrabbiato cerca di acchiapparle ma non ce la fa ah ah ridono priscilla e filomena ah ah siamo le più furbe e anche le più belle ora le farfalle priscilla e filomena se la prendono con la lumaca laura lumaca patata cosa fai l'imparata noi sappiamo volare e tu no triscina e filomena sono proprio dispettose la lumaca laura è molto triste per fortuna arriva giulio coniglio che la consola non piangere più ti porta a mangiare un buon gelato dice l'occa caterina il gelato alla carota è davvero squisaito la lumaca laura ora è contenta forse laura non sa volare ma ha proprio dei buoni amici e priscilla e filomena niente gelato per loro oggi si sono comportate malissimo